Siamo arrivati a un'automobile 600 e un'automobile di scuola pubblica, all'interno del quale si sono ritrovati i docenti, leata, per parlare di varie problematiche che si hanno dati dalla presenza degli invalsi, per un sciopero che ci sarà per le scuole elementari, il 6 e il 7 matti, e per le scuole elementari, il 3 maggio sia medie, il secondo grado, ai colleghi inidonei, e per le caratteristiche non possono più insegnare, ai colleghi di quota 96, cioè coloro che sarebbero potuti andare in pensione nel 2012, prima che a causa della legge Fornero sono stati bloccati e dovranno rimanere dai 3 ai 6 anni ancora insegnare, bloccando così i precari che non potranno assumere loro circa per 4.000 posti che si verrebbero invece a liberare, e infatti all'interno del convegno erano anche presenti i precari del terza fascia, scuole elementari, che aspettano di essere messi in ruolo con serie di problematiche che si commettano fortemente, fortemente, anche con la questione dei docenti di quota 96. Il pomeriggio ci siamo legati a settimbre, che avevamo richiesto, alle 15 del pomeriggio a Montecitorio, dove abbiamo incontrato vari parlamentari che sono scesi in piazza, perché sono stati contattati da noi, sia per quanto riguarda la questione di quota 96, che per quanto riguarda in particolare la questione dei docenti, e su questo ho restato fermato un attimo, perché in realtà sono scesi per incontrarvi sia il deputato di Sella, da Gianni di Melilla, che il deputato del Movimento di Stelle, Gianluca Vacca, che la deputata del PD, Maria Boscia, che hanno seguito in questi anni la comunitazione dei precari, con i quali erano intrati in interlocuzione rispetto alla versione della presentazione del disegno di legge da Marte di Sella, sull'importanza del libro, le situazioni delle biblioteche scolastiche, e partendo da lì abbiamo intanto chiesto un'audizione che ci verrà data presumibilmente l'ottomaggio per entrare nel merito del riconoscimento, in termini di legge, della titolarità delle biblioteche per quanto riguarda i docenti, e poi siamo stati nel merito per risultare la questione relativa all'eliminazione dell'articolo 15, il comma 7 dell'articolo 15 del 1628, che sancisce l'obbligo della mobilità intercompartimentale per i docenti e i minitorni. E anche qui abbiamo avuto dei primi riscontri, delle prime risposte positive, e siamo quindi soddisfatti sia noi che i colleghi di quota 96, che hanno posto l'attenzione dei deputati scesi, delle problematiche relative alla possibilità che del def, del documento economico finanziario, sia presa in esame la possibilità di mandare in pensione, e diciamo che gli stessi hanno commentato positivamente il nostro sentine, la possibilità per lo stesso tempo. A fine del sentine è sceso anche il portavoce del Presidente della Camera, del Presidente di Puglini, Roberto Natale, il quale ha seguito in questi anni la vicenda di doni e comunque ha posto attenzione anche alla questione di quota 96, che ci ha riportato gli esiti positivi, degli incontri, degli scusati nell'arco del diritto con i deputati, che si hanno dato riscontro di quanto detto a noi, e che si è detto disponibile a continuare il colloquio fino ad arrivare alla risoluzione delle due problematiche, e anche per l'attenzione dei docenti di doni, per entrare nel merito di un eventuale cambiamento della norma di legge, per eliminare l'obbligo della mobilità intercontro di legge.